Allora, vi ricordate di quell'uovo piccolo come una ciliegia che vi ho mostrato tempo fa? Dimmi te, se questo è l'uovo, come la ciliegia? Grande! Ormai, ecco, alcuni giorni fa, adesso è ora di metterlo in pentola. Vediamo cosa viene fuori. Piccolo come una ciliegia, proviamo a aprirlo sull'olio, sicuramente forse non ci sarà neanche il giallo del tuorlo, vediamo. Ok, adesso accendo il fuoco, scaldiamo un po' l'olio. Questo è l'ovetto. Mi dispiace anche aprirlo. Qualcuno mi ha consigliato anche di metterlo sotto la galina che cova e vedere cosa viene fuori, il mostro che viene fuori. Ovviamente non viene fuori niente perché non sarà neanche il giallo, l'alimento che serve per mantenere il pulcino. Proviamo la prima volta e vediamo cosa succede. Lo spacco qua, leggermente, ecco, vediamo, speriamo di averlo aperto. Apro, mamma mia, si spacca tutto. Ecco, eccolo, eccolo, è venuto fuori il tuorlo appena appena attaccato. Si è rotta anche la buccia. Eccolo, 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 eccolo. Esiste interamente tutto. 10 grammi aveva, però tiro via le bucce che sono entrate dentro. Spengo perché è già cotto. 10 grammi, l'ovetto piccolino. Un piccolo esperimento. provare come funziona il nuovo ridotto. Buona serata e buona giornata a tutti! Grazie a tutti!